Terzo video con il sistema Botwinik. Nel primo video ho introdotto un po' genericamente il sistema, parlando di qualche aspetto positivo, dei motivi per cui dovremmo studiare questo sistema. Le ricordo perché ci offre l'occasione per studiare una struttura pedonale, quindi piani di medio gioco, sia sul lato di donna, sia sul lato di re, sia al centro, quindi sull'intera scacchiera, quindi migliorano, arricchiscono la nostra cultura scacchistica. E' un sistema valido contro i motori scacchistici e quindi ha un significato moderno. Nel secondo video ho parlato invece dei difetti, anzi il difetto fondamentale è quello di non essere universale, ma il nero con un adeguato ordine di mosse può spuntare le armi del bianco. E ho detto pure che appunto occorre studiare la teoria, cioè se non si può giocare il sistema Botwinik semplicemente sapendo, così, conoscendo qualche idea generale, qualche piano generale. Occorre sia l'uno che l'altro. Ora, come si può inquadrare la teoria del sistema Botwinik? Secondo me bisogna prima studiare, diciamo, i pregi del sistema e poi dopo, e quindi i pregi cosa vuol dire? I pregi significa studiare questa posizione chiave. Adesso vi mostro. E c'è quello in cui Botwinik diceva, in cui il nero si è compromesso, ha spinto il pedone in E5 e vuole giocare un setup estindiano. Ecco, contro questo setup il sistema Botwinik è efficace al 100%. Contro gli altri sistemi, quindi per esempio, non so, contro C5 e così via, invece bisogna un po' adattarsi. Però è un sistema molto solido, anche se non è particolarmente aggressivo, poi vedrete che ha degli aspetti positivi. Allora, io direi, prima di tutto, studiamo la teoria, diciamo, partendo da questa posizione chiave. Quali opzioni ha il bianco? O meglio, quali opzioni ha il nero? Quindi, quali piani? Allora, il primo piano è quello di spingere immediatamente F5. Sicuramente è buono, perché prima ancora di sviluppare il cavallo G8, quindi poi il gioco proseguirà a cavallo G2, cavallo F6, e così via, rocco a rocco, e poi il bianco gioca a cavallo D5, tipica mossa dei giocatori d'inglese, e così via. E quindi c'è tutta una teoria su questo argomento. Un secondo setup del nero, quindi torno indietro alla posizione, diciamo, chiave, ecco, da questa posizione il nero può giocare cavallo E7. Quindi, in pratica, vuole giocare F5, ma al momento giusto. Ecco, e mi sembra anche questa una buona idea. Un terzo setup, sempre a partire dalla posizione chiave scelta, è, per esempio, cavallo F6. Beh, insomma, è una mossa naturale di sviluppo, però ha bloccato il pedone F, quindi è, diciamo, rappresenta, in un certo senso, un ostacolo, una prezza di tempo. Il nero dovrà togliere poi quel cavallo per poter fare la spinta F7-F5. In questa struttura pedonale quella spinta F5 per il nero è proprio utile, serve. Quindi non sembra particolarmente buona, non fa paura, anche se, e devo dire, ci sono tranquillamente giocatori che la usano. Quindi bisogna studiare anche questo. Altro setup è, al fine 6, con l'idea, semplicemente, di giocare donna D7 e spianchettare. È un'idea buona, cioè le intenzioni sono chiare, poi una volta spianchettato, vuole giocare qualcosa come H5-H4. Questo è lo stesso piano, tra l'altro, che nella siciliana il nero adotta contro la siciliana chiusa. Quindi è un piano che il nero conosce bene e, diciamo, il rimedio del bianco si ispira proprio alla siciliana. Cioè, nel senso che gioca cavallo D5, che però è anche una tipica mossa dei giocatori d'inglese, chiaramente. Altri giocatori usano, semplicemente, fare cavallo D4 subito, tutto sommato. È una mossa logica. Lo so, Steinitz, Lasker, dicevano non muovere due volte lo stesso pezzo in apertura. Ma vi assicuro che esistono forti giocatori che l'hanno tranquillamente giocata, perché l'idea è poi quella di fare banalmente C7-C6. E quindi il bianco non può fare cavallo D5, non può attaccare al centro. Quel cavallo in D4 è onestamente fastidioso, quindi il bianco deve reagire subito. Ci sono due opzioni, o cavallo G2, o cavallo C2. Bisogna studiare e sapere come reagire. Altro piano interessante, aggressivo, è H5. Direttamente partire con H5 e H4, e qui il bianco ha due tipi di reazioni. O H3, questa è una specialità del grande maestro Suba col bianco, e oppure H4. Vabbè, quindi una volta inquadrato i migliori piani del nero, noi cosa vedremo, in pratica, nei prossimi video, in questo e nei prossimi. Io ho, come dicevo, due database, con circa 150 partite, di cui 8 files di teoria, e circa 50 partite le ho commentate in italiano. Da queste ho selezionato quattro partite in cui il nero gioca E5, e quattro partite in cui il nero gioca C5, in maniera tale da chiarire, diciamo, quelli che reputo più struttive, ecco, chiarire i piani del bianco, i piani del nero. Comunque è ovvio che bisogna, purtroppo, studiarsi tutto nel database, e io i database poi li lascerò sul sito, ovviamente dopo la pubblicazione online dell'ultimo mio video, perché sennò creo solo confusione. Incominciamo con la prima partita, quindi una selezione di partite scelte da me, ecco, in base, C4, E5, Psakis, nel 2000, cavallo C3, cavallo C6, G3, G6. Perfetto, già dopo la terza mossa, il nero ci ha fatto capire chiaramente le sue intenzioni, quindi possiamo, con fiducia, entrare nel sistema botwinic, perché abbiamo le due condizioni necessarie e sufficienti, E5, e il fianchetto, E4, E6, cavallo G2. E vediamo subito il primo piano, F5, il nero avanza direttamente il pedone, prima di mettere il suo cavallo in F6, che in ogni caso è la casa migliore per il nero, anche se cavallo G7 ha sicuramente molti affezionati, per esempio, cavallo G7, D3, H5, e sperando poi, dopo, di fare H4. Il significato, tra l'altro, ecco, volevo attirare la vostra attenzione su un punto, il senso, il significato di mettere il cavallo in E7 invece che in cavallo F6, lo si capisce da questo, che adesso, se il bianco gioca al file G5, inchioda, e non inchioda un bel niente, perché c'è semplicemente F6, ecco l'idea di quello. Quindi, in pratica, il bianco invece deve fare H4, cioè stoppare, bloccare il pedone nero. Dopo arrocco, arrocco, non è che è cambiato molto l'inclusione di H4, H5, in realtà significa solo una cosa, che quando il nero giocherà F5, si indebolirà spaventosamente, lascerà, quando giocherà F5, lascerà un buco in G5 notevole. Ecco, non credo che includere H5, H4 dia un grande vantaggio al nero. Vabbè, torniamo alla partita, comunque, diciamo, questa è stata una digressione su cavallo G7, torniamo alla partita in cui il nero, dicevo, ha giocato F5, vuole semplicemente fare cavallo F6, che è la mossa più naturale, quindi D3, cavallo F6, arrocco, arrocco. Ok, benissimo, quindi abbiamo il sistema botwinnik, sta per partire, vedete il bianco giocare la sua tipica mossa chiave, sia del sistema botwinnik, sia dell'inglese in generale. Vuole giocare poi al filo di G5. Ho già discusso il significato di cavallo D5, cioè nel senso che l'avamposto in D5 è migliore rispetto all'avamposto in D4, perché se il nero cattura in D5, poi o dopo ci apre la colonna C, dopo C per D5, e quindi avrà difficoltà sul pedione C7. Vabbè, vediamo il nero come ha proseguito in partita, ha giocato al filo di G6. In pratica vuole giocare donna D7, ecco, quindi in un certo senso anticipa l'idea del bianco, perché il bianco vuole appunto giocare al filo di G5, vuole inchiodare il cavallo F6, e allora si schiude in anticipo, ecco, vuole anticipare questa idea. In alternativa, poteva giocare per esempio cavallo E7 con l'idea C7-C6. Dopo scacco, mangio, al filo di H6, e qui il nero può giocare o al filo di G7, anche il setore F7 donna D2, sicuramente una situazione solida per il bianco. Vabbè, comunque al filo di G7, volevo farvi vedere questa partita, al filo per G7, al filo per G7. Attenti ora, una volta cambiato quell'alfiere, guardate il bianco come gioca, D4. Ecco, apre il centro, è un gioco comodo, mentre il lato di re del nero fa un po' paura, diciamo, si è svuotato di pezzi, non ha più l'alfiere G7 che in realtà era una forza, difendeva un po' tutto. Questa è una partita del 2006, vabbè, poi è finita patta, però il bianco mi sembra che sia veramente bene. Quindi attenti a quest'idea di giocare D4, eventualmente, se vi capita, diciamo, se avete la possibilità. Quindi spianchettare l'alfiere e poi giocare D4. Torniamo alla partita, dicevamo, il nero ha giocato al filo E6, con l'idea, donna D7. Al filo di G5, ecco. Il tandem cavallo D5, al filo di G5, sulla quinta traversa, è veramente potente. Donna D7 si schioda, donna D2. Il bianco gioca il suo tipico sistema botwinic, vuole, appunto, cambiare gli alfieri, spianchettare il nero. Tranquillamente, non gli interessa che quell'alfiere cattivo, perché una volta spianchettato, poi potrà eventualmente giocare, appunto, aprire al centro, aprire il lato di re, cioè in parole povere, fare D3, D4, oppure F2, F4. Quindi, vuole sfianchettarlo. Nero, è una mossa logica, vuole raddoppiare le torri sulla colonna F, però cavallo H5, con l'idea di fare F4, era più interessante, era migliore, perché, vabbè, praticamente costringeva il bianco a cambiare E per F5. Ora, il nero deve decidere, poi, come ricatturare in F5. Un vecchio detto, un vecchio proverbio, proprio di botwinic, diceva che, in situazioni simili, bisognerebbe ricatturare sempre con un pedone, cioè ricatturare con il centro. Per esempio, in parole povere, bisognerebbe giocare G per F5. Ecco, però, in questo caso, F4 dimostra che questo proverbio di botwinic non è sempre valido, perché, diciamo, il blocco che ha esercitato il bianco nella casa F4, praticamente smonta del tutto le intenzioni aggressive del nero. Non solo, anche questa batteria è rimasta chiusa, la diagonale C8H3 è rimasta chiusa, quindi F5, ricatturare col pedone, non è buono. Probabilmente, in questo caso, sembra migliore alfile per F5. E qui, vabbè, il bianco proseguirà, per esempio, con B4, il tipico attacco sul lato di donna del bianco nell'ingresa. Come vedete, bisogna stare sempre attenti, quindi, a giocare a scacchi. Non si possono applicare le regole in maniera acritica. E persino, quindi, una grande stratega come botwinic, probabilmente avrebbe ricatturato proprio con l'alfiere, nonostante il suo proverbio. Perché, tutto sommato, onestamente, bisogna dire che il nero ha una struttura pedonale solida e pezzi attivi, quindi non sta assolutamente male in questa cosa. Quindi, non bisogna mai giocare in base a regole generali, ma sempre guardare le posizioni concrete. Come dice un altro proverbio, solo lo scacco matto è sicuro a scacchi. Tutto il resto è opinabile, è incerto. Per la cronaca, questa era la partita tra Luke McShane e Rawson nel 2010. Va bene? Questa non è, diciamo, una variante, ma è tratta da questa partita del 2010. Quindi, vedete com'è, diciamo, sono varianti giocate modernamente dei grandi maestri. Bene, torniamo alla partita. Quindi, invece di giocare all'undicesima mossa a cavallo H5, il nero ha proseguito contro F7 in questa partita, F3. Ecco, osservate F3. Vedete come il bianco non ha fretta di spingere F4. Quindi, il bianco si è limitato per ora a predisporre una barriera alle torri nere in F3. Se il nero crea qualche controgioco, poi il bianco può preparare tranquillamente una spinta di rottura sul lato di donna, una brak traf con C4-C5. Quindi, io penso che il bianco qui abbia buone chance, stia già meglio. Insomma, ha piazzato il cavallo in D5, i pezzi stanno tutti bene. Non vi preoccupate, per favore, per l'alfiere cattivo in G2, perché tanto anche il nero è, tutto sommato, c'è l'alfiere camposcuro cattivo, quindi non vedo proprio minimamente il problema. Vediamo, il nero ha raddoppiato le torri. È giusto. Torre C1. Vuole giocare C4-C5. F per E4. E il nero, giustamente, ha deciso che ha bisogno di eseguire questo cambio per poter fare qualcosa, per poter giocare al filo H3. Però, non lo so, forse avrebbe dovuto giocare nuovamente cavallo H5, avrebbe dovuto giocare prima cavallo H5. Ecco, in realtà il nero incomincia già che non sa esattamente cosa fare. Il bianco ha ricatturato. Di solito, quando il nero prende con F per E4, è sempre meglio riprendere col pedone D, perché adesso, perché adesso vedete bene come l'apertura della colonna D abbia favorito il bianco. Adesso potete attaccare frontalmente il pedone D6 con C4-C5, C per D6, e quindi avete un target nel pedone D6 che diventa arretrato. Questa è un'idea tipica del sistema Botwinik, quindi quando il nero gioca F per E4. Vediamo il nero come ha proseguito. ha fatto cavallo E8 per difendere C7, D6, appunto. È una mossa che è brutta da vedere, onestamente. Cioè, questa idea di superproteggere C7 prima di giocare alfiere H3, insomma, non è certo un modo brillante per iniziare un attacco, però purtroppo non è che suggerirgli qualche mossa è difficile. Alfiere E3, sempre con l'idea di giocare C4-C5, alfiere H3. Oh, finalmente almeno il nero è riuscito a realizzare questo piano, C5. Ecco, vedete come il bianco stia tranquillamente attaccando sul lato di donna, ha finito la sua preparazione e segue questa spinta tematica dell'inglese. Io sottolineo la parola tematica perché, diciamo, il sistema Botwinnik, secondo la mia opinione, dovrebbe essere studiato soprattutto da chi già conosce l'inglese. Ecco, chi già da prima lo usava come sistema di apertura. Secondo me, lo studio del Botwinnik migliorerà sicuramente la sua conoscenza dei piani tipici. Ecco, quantomeno. Alfiere per C2, ha cambiato l'alfiere, A6, torre Cd1, ecco, si prepara, come vedete, alla pressione frontale sul pedone D6. Qualche mossa adesso preparatoria di Psachis, donna C8, donna C2, Rh8, B4, torre G8. Il nero, anche lui, si sta preparando a qualcosa che però, onestamente, non si sa sul lato di Re, viceversa. Ecco, il piano del bianco è molto semplice, il tipico attacco sul lato di donna, D per C5, e il nero deve concedere il pedone D6 oppure, se no, sarà soffocato da B4, B5, però, dopo questo cambio il pedone E5 diventa isolato, un target, fine per C5, donna E6, cavallo C1, ottimo, riposizione il cavallo per attaccare il pedone E5, vabbè, oramai la fase di apertura è ampiamente finita, però, è chiaro che, diciamo, vediamo come va a finire, cavallo D3, alfile D6, donna B2, B5, è arrivato il tipico attacco del bianco sul lato di donna, B6, ecco, vedete, sta attaccando il pedone C7, il pedone E5 è un target, l'alfiere attacca anche l'alfiere D6 che a sua volta è difensore di E5, insomma, la situazione del nero è sempre più catastrofica, per esempio, non so, se gioca C6 cambia l'alfiere, cavallo per E5, ecco, e guardate come il centro del nero è stato completamente distrutto, quindi ha giocato cavallo D7, cavallo F4, addirittura la donna nera è intrappolata, è orribile, deve dare la qualità, ma vabbè, insomma, il nero potrebbe anche abbandonare qui, vediamo, dov'è che ha abbandonato, ha abbandonato dopo qualche mossa, scacco, ah vabbè, ha abbandonato qui perché il bianco promuove, o promuove, vabbè, insomma, la partita, avete capito che è andata malissimo. Bene, una prima partita, quindi, io penso, abbastanza interessante, perché ci ha mostrato vari piani tipici, in particolare, l'idea cavallo D5, alfile G5, l'idea, e questa mi sembra un'idea interessante, e l'idea anche del nero, cavallo H5, F4, con quella discussione interessante, dopo E per F5, vedete questo punto focale della partita McShane-Rowson del 2010, che è molto interessante per dimostrare che è difficile giocare a scacchi, ecco, bisogna sempre analizzare concretamente le posizioni, non si può mai andare per partito preso, ecco, la ricattura con G per F5, non va bene per F4, questa mossa di blocco che lascia al bianco mani libere sul lato di donna. Ci vediamo nel prossimo video.